Come si fa a ricaricarsi istantaneamente in quello che si fa, nella propria attività, nel proprio business? Io in questo momento sono in montagna e qui è un esercizio che mi viene bene, fra l'altro uno dei motivi per cui vengo in montagna e mi prendo un periodo di stacco è proprio quello di cercare di ricaricarmi, quello che mi succede è che arrivo a un certo livello di carica, poi mi faccio un periodo di stacco e quando torno poi sul business, sul lavoro, sono estremamente più carico, riesco a produrre in maniera molto più efficace risultati. Però questo è anche un esercizio che faccio regolarmente, quello di cercare di ricaricarmi perché è normale, soprattutto come imprenditori, però per tutti quanti, di avere dei momenti di alto, dei momenti di basso, dei momenti di alto, dei momenti di basso e quello che succede è che come imprenditori noi veniamo pagati per i nostri momenti di alto, noi riusciamo a produrre la prestazione, il risultato nel nostro momento di alto quindi dobbiamo cercare di massimizzare i nostri momenti di alto e ricaricarsi serve proprio a questo quindi un esercizio che io faccio regolarmente e che ti propongo anche adesso di cercare di fare è di valutare il tuo livello fermati un attimo e prova a valutare qual è il tuo livello di carica, il tuo livello di energia in questo momento da 1 a 10, datti un voto, può essere 4, può essere 5, può essere 6, pensaci un attimo e dopodiché fermati, concentrati e fai lo sforzo di passare al livello successivo quindi se arrivi a un 4 cerca di saltare al livello 5, se arrivi a un 5 cerca di passare al livello 6 e l'esercizio lo puoi ripetere, puoi scalare i livelli in questo modo, arrivare sempre più in alto e arrivare più carico prima di fare una sessione importante, prima di creare qualcosa, prima di lavorare a qualcosa di importante se fai l'esercizio della ricarica, questo ti aiuta a essere molto più efficace a raggiungere in maniera molto più efficiente i tuoi obiettivi e ottenere i tuoi risultati quindi ricordati, è normale avere momenti di alto, momenti di basso, momenti di alto, momenti di basso devi cercare di massimizzare i tuoi momenti di alto quindi valuta il tuo livello e poi cerca di passare al livello successivo io sono Marco Scabia, se stai guardando questo video in qualunque luogo sul web se non sia il mio blog vai su www.marcoscabia.com poi lasciami una qualche reazione, lasciami un commento, condividi questo post e ricorda, sempre avanti, senza mai fermarsi